Prosegue il nostro viaggio all'interno degli standing roulotte camper in fiera che in questa prima edizione sperimentale, ricordiamo tutti, chiuderà il 28 di giugno ma attualmente è in funzione, è regolarmente aperta e oggi andiamo su AutoNord Car & Caravan che è stato il primo concessionario a aderire all'operazione è in via delle tre campane, vedete, a Vanzago, provincia di Milano e tra gli accessori ha una marea, praticamente nell'enciclopedia, dei movimentatori, dei mover allora andiamo a vedere un attimino, tra le altre operazioni, vediamo un attimo qua ha questo Enduro a 6,99 ovviamente prezzo fiera ma possiamo proseguire ha anche un pack, in questo caso che è un kit completo, un Enduro esattamente l'M203 più la batteria GM, caricabatteria e la scatola portabatteria peraltro la scatola portabatteria è di quelle regolamentari quando si inserisce, ad esempio, all'interno delle panche delle caravan insomma, adesso ve ne ho fatto vedere due poi ne ha altri e questo è un modo bellissimo per essere presenti se andiamo sulle roulotte nuove sempre AutoNord Cara & Caravan propone una Adria Aviva 472 eccola qua che peraltro ha una caravan vendutissima in Italia e è decisamente rara è interessante perché ha messo anche il video di presentazione con l'ufficiale Adria mentre su quelle usate ecco per esempio ha inserito una Knauss Sport 400LK una Caravell Air scusate che così magari lo vedete meglio ecco e una Eriba Touring PUC 120 GT questo per ricordare a tutti che roulotte e camper in fiera è aperto fino al 28 di giugno e tra gli altri è presente appunto anche AutoNord Cara & Caravan con le offerte che abbiamo visto e le proposte che abbiamo visto che abbiamo visto